www.emiciclonews.it Tutto in un'unica pagina. Tutto immediatamente condivisibile sui principali social network. Una barra orizzontale non page vi tiene sempre aggiornati sui principali argomenti diffusi dall'agenzia di stampa e un sistema di tag e sezioni semplifica la navigazione tra le notizie. Emiciclonews integra una vetrina con le pubblicazioni editoriali del Consiglio regionale, con la possibilità di sfogliarle online e una selezione di documenti scaricabili. Tutto completato da una raccolta delle migliori gallerie fotografiche che ritraggono gli eventi salienti della vita politica e culturale dell'emiciclo. Quando si svolgono le sedute dell'assemblea regionale, la home page si trasforma e pone in grande evidenza la finestra per visualizzare il data streaming del Consiglio. Emiciclonews è un sito completamente responsive, si adatta cioè automaticamente al formato dei vari dispositivi digitali, senza perdita di qualità grafica e mantenendo sempre la migliore leggibilità possibile. Emiciclonews, l'informazione a misura di cittadini.